Se con l'arrivo del caldo e dell'estate la città si svuota soprattutto nel weekend per chi non ha nulla da mangiare i problemi non vanno in vacanza a continuare a garantire un pasto decente in città vecchia anche e soprattutto in questi giorni di temperature record e la mensa dei poveri della Caritas gestita dalla parrocchia del Carmine. Il nostro incarico è quello di organizzare la giornata per quanto riguarda gli ospiti per il mangiare preparare la roba da cucinare ma in realtà poi si fa tutt'altro oltre quello ci si aiuta a servire i tavoli anche in cucina se è necessario quindi prepariamo circa una cinquantina adesso che siamo in estate ma normalmente arriviamo anche a 66-67 pasti giornalieri. Diamo un primo un secondo un contorno e tante volte quando ci arriva la frutta il cornetto il pane quello che possiamo dare diamo dovuto un po' alle donazioni delle persone che vengono a portarci la roba è un po' a volontari.